e ti saluto con la pace del signore gesù cristo il nostro unico signore della gloria alleluia oggi martedì 16 di luglio 2024 dio è buono e la sua bontà dura in eterno gloria a gesù siamo ancora in vita quindi anche oggi possiamo ascoltare la parola di gesù ed è questo quello che faremo subito perché abbiamo fame e sete di giustizia vero no io ce l'ho io ho desiderio ho bisogno di ascoltare la sua santa e divina parola quindi voglio invitarti ad aprire il tuo cuore e ad ascoltare con un cuore attento ciò che lo spirito santo ci dirà per mezzo della parola di cristo ai nostri cuori in questi termini esortatevi a vicenda ogni giorno perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato testo che possiamo trovare nella lettera agli ebrei capitolo 3 versetto 13 ed ancora signore rinnova la mia vita secondo la tua parola testo che troviamo nel salmo 119 il versetto 107 il titolo di questo messaggio è questo vivere per dio i risultati passati non pregiudicano risultati futuri questo è l'avvertimento scritto su certi documenti che propongono investimenti finanziari la bibbia ce ne dà un esempio nella storia di uno dei re ebrei del regno di giuda in israele in seconda cronica capitoli da 14 a 16 abbia si addormentò con i suoi padri e fu sepolto asa suo figlio regnò al suo posto asa fece ciò che è buono e retto agli occhi del signore suo dio tolse via gli altari degli dei stranieri e spezzò le statue ordinò a giuda di cercare il signore dio dei suoi padri e di mettere in pratica la sua legge e i suoi comandamenti asa discendeva da un padre e da un nonno poco fedele a dio ma scelse di essere fedele demolì le statue dei falsi dei e cercò il vero dio quando fu attaccato da un esercito nemico confidò in dio anche se si è fedele si può essere in pericolo allora dio gli mandò un profeta e il re asa gli diede ascolto si potrebbe pensare che dopo tutti quegli anni asa avesse una sorta di garanzia per terminare bene la sua vita con dio invece di fronte ad una nuova minaccia decise di cercare aiuto presso un re idolatra e addirittura mise in prigione il profeta che dio gli aveva mandato per avvertirlo delle conseguenze della sua decisione alla fine del suo regno asa che era malato non si rivolse a dio ma solo ai medici questa triste storia ci ricorda che la nostra fedeltà a dio va sempre coltivata occorre mantenere il desiderio di vivere per lui e con lui questa è l'unica vita che vale la pena di vivere e tu cosa hai intenzione di fare per chi vuoi vivere come disse un personaggio della bibbia lo faccio mio questa frase io e la casa mia serviremo l'eterno voi dunque scegliete chi volete servire perché la scelta è personale dio ci benedica e buona giornata buona giornata buona giornata Grazie a tutti.